Lei dice che nel cinema lavorano un po' sempre le stesse persone. No, l'ho detto, l'hai detto tu, però è vero. Beh, però una volta lei ha detto la solita Margherita Bui, il solito Servillo. Non mi far dire i nomi, perché io non le ho mai detto in vita mia. L'hai detto tu, io non l'ho detto. Ma è vero? Comunque è vero, sì, ci sono poche le persone, sono cinque o sei gli attori. Cioè c'è una lobby degli attori, lavorano sempre loro. Io credo sia una lobby degli attori, non so se degli attori. Il giro, il circoletto? Sì, è un circoletto. E lei è un outsider? Sì, è un circoletto, sì, sì, assolutamente. Senta, quindi la perdita del giro? Peccato perché, peccato per loro. Peccato davvero. A rinunciare a lei? Sì. Senta, a lei è arrivato il successo prestissimo, appunto, lo ricordava lei, con questa serie della RAI, questa serie televisiva. Era un'epoca in cui in RAI c'erano delle persone che capivano, ci capivano insomma. Adesso? Adesso? Io non lavoro da trent'anni in RAI. Perché secondo me? Non lo so. E lavorare con Gabriel Garco invece? Eh, lavorare con Gabriel Garco è un'esperienza del terzo tipo, però anche quella è un'esperienza. правда. E vorum' alla parlare? Ciao. Ciao a woulda. Ciao a tutti. Ma quantità è le seconda passione.